Al termine dell'udienza generale, nel corso dei saluti ai fedeli di lingua italiana, il Papa ha ricordato la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto, che si celebra il 27 gennaio. Il ricordo di quello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedeli non può essere né dimenticato né negato. Non può esserci un impegno costante nel costruire insieme la fraternità senza aver prima dissipato le radici dell'odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore dell'Olocausto. A seguire, Francesco ha voluto ancora una volta esprimere la propria preghiera ed il proprio pensiero per la martoriata e afflitta ucraina. Lo ha fatto dopo che in mattinata aveva incontrato il Consiglio Panucraino delle Chiese e delle Organizzazioni Religiose, che si è ritrovato a Roma dal 24 al 26 gennaio. Questa mattina ho avuto un incontro con i capi delle diverse confessioni di fede che sono in Ucraina, tutti uniti hanno raccontato il dolore di quel popolo. Non dimentichiamo mai, ogni giorno, di pregare per la pace definitiva in Ucraina. All'udienza generale di questo mercoledì, Papa Francesco ha proseguito il ciclo di catechesi, la passione per l'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente, incentrando la sua terza meditazione sul tema Gesù, Maestro dell'Annuncio. Il Pontefice ha identificato cinque tratti essenziali che contraddistinguono il modo di comunicare di Gesù, che anche noi dovremmo ricalcare. Il primo degli elementi individuati dal Santo Padre è la gioia. Non si può parlare di Gesù senza gioia, perché la fede è una stupenda storia di amore da condivide. Testimoniare Gesù, fare qualcosa per gli altri nel suo nome è, tra le righe della vita, di aver ricevuto un dono così bello che nessuna parola basta esprimerlo. Il secondo aspetto è la liberazione. Gesù, ha sottolineato Francesco, dice di essere stato mandato per liberare i prigionieri, non per opprimere o per imporre pesi e sensi di colpa. Certo, seguire Gesù comporta un ascesi, comporta dei sacrifici d'altronde. Se ogni cosa bella che ne richiede, quanto più la realtà si va nella vita. Però chi testimonia Cristo mostra la bellezza della meta, più che la fatica del cammino. La luce è il terzo elemento, una luce fisica donata da Gesù attraverso la guarigione dei ciechi, ma anche una luce che fa vedere la vita in un modo nuovo. E quale luce ci dona Gesù? Ci porta alla luce della figlia Lanza. Lui è il figlio amato del Padre, vivente per sempre. E con Lui anche noi siamo figli di Dio, amati per sempre, nonostante i nostri sbagli ed effetti. Il quarto aspetto dell'annuncio è la guarigione. Gesù è venuto a rimettere in libertà gli oppressi, ha spiegato il Papa, che poi ha specificato come sia il peccato a pesare maggiormente sui fedeli. Io posso peccare perché sono debili, ognuno di noi può farlo. Ma questa non è l'ultima parola, l'ultima parola è la manottessa di Gesù che ti rialza dal peccato. E Padre, questo quando lo fa una volta? No, due, no, tre, no. Sempre. Ogni volta che tu stai male così, il Signore è sempre con la manottessa. Soltanto ci vuole aggrapparsi. L'annuncio della grazia portata dal Signore che fa vita nuova e che ci stupisce è l'ultimo tratto che Gesù ci insegna. Francesco, adunque sottolineato come l'annuncio del Vangelo, debba sempre portare a questo stupore. Questo stupore, non posso credere. Sono stato perdonato, sono stato perdonata. Ma così grande è il nostro Dio. Perché non siamo noi a fare grandi cose, ma è la grazia del Signore che anche attraverso di noi compie cose imprevedibili. E queste sono le sorprese di Dio. Dio è un maestro delle sorprese. Il Pontefice ha quindi terminato la sua riflessione osservando che il lieto annuncio di Gesù è rivolto ai poveri perché questi sono i prediletti di Dio. Se qualcuno mi dice Padre, ma qual è la via più breve per incontrare Gesù? Fatevi sognoso. Fatevi sognoso di grazia, bisognoso di perdono, bisognoso di gioia e lui ci avvicinerà a te. Il Papa, nella giornata di sabato, ha ricevuto in udienza i soci dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, un ente a tutela di coloro che riportano mutilazioni e infermità nel corso del servizio militare e civile. So che per alcuni di voi la causa di invalidità è legata proprio a una missione di pace o all'adempimento di un servizio all'ordine pubblico e alla legalità. E questo arricchisce, per così dire, il patrimonio morale della vostra associazione. Ma l'impegno di essere costruttori di pace vale per tutti, indipendentemente dalla storia di ognuno. In un mondo ferito dai conflitti, Francesco ha quindi invitato ad una costruzione della pace che parta dai piccoli gesti quotidiani, come quello di evitare le violenze verbali. A volte basta una parola per ferire o uccidere un fratello o una sorella. Pensiamo alla calunnia, pensiamo al chiacchiericcio, che è così usuale, no? Fra voi no, no? Fra voi sicuro di no. Ma in altre parti, il chiacchiericcio che parla di ogni giorno, no? E fa tanto male, distrugge. L'unione può e deve diventare una forza di pace nella società, aiutando a risolvere i conflitti in modo pacifico e ricercando il bene comune. È questo l'incoraggiamento espresso dal pontefice? Voi, ha aggiunto, potete dare un senso sociale a quella che è stata un'esperienza negativa. Ciascuno è invitato a superare la tendenza a chiudersi in se stesso, nella propria condizione per aprirsi all'incontro, alla condivisione, alla solidarietà. E questo può generare un grande cambiamento, voi lo sapete bene. Per essere dei missionari vicino a Dio e agli altri, sono necessari il coraggio dell'autenticità, la capacità di uscire da se stessi e l'apertura al dialogo. Papa Francesco lo ha evidenziato nell'udienza con la comunità del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide, che si è svolta nella sala del concistoro del Palazzo Apostolico. Sono superiori e studenti del seminario voluto da Papa Urbano VII nel 1627 per la formazione del clero destinato ai territori di missione. A proposito del coraggio dell'autenticità, il pontefice ha invitato a spogliarsi delle maschere che si indossano, magari per apparire perfetti e impeccabili. Le maschere non servono, cari fratelli, non servono. Presentiamoci agli altri senza schermi per quello che siamo, con i nostri limiti e le nostre contraddizioni, vincendo la paura di essere giudicati, perché non corrispondiamo a un modello ideale, che spesso esiste solo nella nostra mente. L'invito del Papa è quello ad essere missionari credibili, non per l'abito che si indossa, quanto per uno stile di semplicità e di sincerità. Per favore, non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete, soprattutto a quei fratelli maggiori che la Chiesa vi pone accanto come formatori. A volte può venire la tentazione del formalismo, oppure il fascino del ruolo, come se questo potesse assicurarvi una piena realizzazione. occorre aprirsi al dialogo con Dio nella preghiera, ha evidenziato Francesco avviandosi alla conclusione della sua riflessione, e poi, ha aggiunto, è necessario aprirsi al dialogo fraterno in una radicale apertura verso l'altro. Il mondo ha bisogno di dialogo, ha bisogno di pace, e ha bisogno di uomini e donne che ne siano testimoni. Vi esorto a mettervi alla scuola di quei martiri del dialogo, che anche in alcuni dei vostri paesi hanno percorso con coraggio questa strada per essere costruttori di pace. Grazie a tutti.